Il Palasport Estra Mario D'Agata riapre le porte più piccoli cestisti della scuola basket Arezzo. La federazione ha infatti autorizzato la ripresa degli allenamenti al chiuso anche per i settori di avviamento alla palla canestro e di conseguenza per i 150 bambini e bambine del mini basket a Nova Verta è arrivata la grande emozione di tornare a giocare sul parquet dell'impianto cittadino. La preparazione di queste categorie era già ripresa nelle scorse settimane esclusivamente all'aperto sul campo playground intitolato a Kobe Bryant con le incertezze legate alle basse temperature e al maltempo. Dunque la possibilità di poter giocare adesso all'interno del Palasport potrà garantire lo svolgimento delle attività con costanza e l'inserimento anche di nuovi giovani atleti. Tutti gli aspiranti cestisti nati tra il 2009 e il 2016 potranno così misurarsi nella disciplina con giornate gratuite dove avranno l'occasione di mettersi alla prova in uno sport incentrato sul gioco, sul divertimento e sulla sicurezza. Ogni allenamento infatti si svolgerà esclusivamente a livello individuale senza contatto nel rispetto dei rigidi protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19 con attenzioni quali la misurazione della temperatura, l'igienizzazione all'ingresso del palasporta, l'utilizzo di palloni personali e la sanificazione di ambienti ed attrezzi. I corsi di avviamento alla pallacanestro sono previsti anche nel corso dell'estate per permettere così a bambini e bambine di svolgere l'attività senza nuove interruzioni facendo affidamento sulla disponibilità e preparazione degli istruttori. L'unico requisito per i nuovi atleti è rappresentato dal possesso del certificato di donità alla pratica sportiva non agonistica per chi è nato tra il 2011 e il 2016 o il certificato alla pratica sportiva agonistica per il 2010.